non faccio solo la valletta ebbene si dovete scoprirlo ciao a tutti e il marketing e tecnologia per decenni hanno viaggiato su fieramente su binari paralleli come tutti i settori aziendali ognuno convinto della supremazia sugli altri ma comunque ben staccati da parecchi anni in realtà si intrecciano pesantemente non possiamo far marketing senza la tecnologia ormai quasi tutto quello che facciamo è fatto esclusivamente con software sono software i motori di ricerca i social gli strumenti che usiamo per misurare ed è nata un dalla crasi dei due nomi un settore che è martec il gli strumenti per fare le tecnologie che usiamo per fare marketing un sito molto carino che vi consiglio che ci smartec.com da una decina d'anni fa censisce tutti gli strumenti che si possono usare per darvi un'idea nel 2011 erano circa 150 i software che si venivano usati per il marketing più o meno ogni anno questo numero raddoppia in realtà non solo raddoppia ogni anno circa il 30 per cento falliscono quindi ogni anno quelli che entrano in questo mercato sono ancora di più delle del cambio da una nell'altro nel 2020 siamo a oltre 8 mila strumenti per il marketing divisi tra advertising vendite analisi creazioni di contenuti eccetera e l'elenco degli 8 mila li trovate a martec 5000 punto com c'è una bella tabella filtrabile dove potete sbizzarrirvi a cercare gli strumenti giusti come vengono scelti normalmente questi strumenti ci sono alcuni approcci uno è quello in cui la prima domanda che viene fatta è ma è gratis in quel caso capite che il valore attribuito a quello che lo strumento farà è prioritariamente quello economico per fortuna esiste il karma di solito chi fa questa domanda riceve lo stesso l'attribuzione di valore da parte dei clienti se vi aspettate che il lavoro degli altri sia sempre gratis poi non lamentatevi se capita anche a voi a volte si da una parte ma a volte capita di essere dall'altra e per alcuni questo è davvero l'unico criterio che viene scelto a prescindere dalla disponibilità economica un altro criterio con cui vengono scelti gli strumenti a volte è su quanto siano cool è di moda quello strumento ok devo trovare il modo di imparare a usarlo aziende che decidono di cambiare il gestionale prendere 6 forse perché ho letto che 6 forse non plus ultra così e chiamano lì ti dicendo lì o il marketing ok dovete prendere questo strumento e questa è tutta l'analisi che fanno oppure ho visto l'influencer che usa quella tal cosa non posso non far senza l'influencer usa ninjalytics per analizzare il profilo instagram chi sono io devo averlo altrimenti non posso lavorare con instagram un terzo approccio è quello di lo chiamo do it yourself cosa so usa cosa a disposizione o a disposizione questo facciamo con questo gente che sa usare solo word e fa le analisi le fatture i preventivi i piani editoriali con word piega ogni strumento all'uso che vuole e questo di nuovo è l'unico criterio più o meno faccio mea culpa anch'io e credo anche molti di voi di volta in volta c'è capitato di ricadere in uno di questi tre stereotipi e di per convincendoci che era per necessità ma di fatto eravamo noi a scegliere di far così di fare le scelte solo sulla base di questi criteri ha molto più senso usare un altro approccio che è quello di ritornare sono ritornato a fare un sacco quella cosa che mi piaceva di più fare le superiori una vita fa che sono i diagrammi di flusso imparare a rimettersi a scomporre tutte le cose che facciamo in tante piccole azioni ogni processo di scelta ma anche di azione è scomponibile in tanti piccoli tante piccole fasi di processo ciascuna delle quali potrebbe avere a quel punto per ciascuna di queste fasi cerco lo strumento migliore per riuscire a arrivare in fondo questo diagramma l'obiettivo di diagramma di flusso è partire e arrivare in fondo voi siete la pallina lanciata in sto labirinto cercate di arrivare alla fine e vincere la gomma da masticare se siete nei giochini spiaggia oppure potete cadere nei buchi se fate le scelte sbagliate disegnare il diagramma di flusso mi ha permesso di concentrarmi molto di più su quali sono le funzioni che mi servivano a cosa stavo cosa stavo facendo quali erano le cose che stavo cercando davvero in quello strumento una volta analizzato tutto mettersi a quel punto e solo a quel punto a cercare gli strumenti a quel punto è chiaro che non c'è il sito dove gli spiego gli impasso purtroppo il diagramma di flusso e mi dice qual è la scelta migliore sono però in condizioni diverse rispetto a come ero in partenza poi è chiaro che devo dare il peso diverso agli aspetti comunque potrò scegliere uno strumento perché lo conosco già e magari soddisfa al 70 per cento le esigenze che avevo e non al 100 però metto sul piatto della bilancia i pro e i contro di tutte le scelte però ho notato che questo ha portato nelle mie scelte a scoprire molti più strumenti molto più azzeccati ero convinto fino a un anno fa che come zapier che forse molti di voi conoscono è un integratore uno strumento che vi permette un software che vi permette di collegare sistemi diversi ero convinto che come zapier non esistesse nient'altro di meglio è a pagamento praticamente gratis ci fate poco o niente se dovete fare qualcosa di un po complesso dovete pagare molto usato molto manutenuto ben aggiornato sarà sicuramente lo strumento perfetto in realtà esistono un sacco di altri software come questo che fanno le stesse cose spesso in maniera migliore più semplice più visuale o con qualche feature leggermente in più o meglio più centrata ed è stato grazie a questo approccio che ne ho scoperti ad esempio altri andate su martech 5000 trovate tutti ma mi sono trovato a lavorare benissimo con integromat con automate sono tutti siti che fanno le stesse funzioni sulla carta in realtà li trovavo perché scoprivo grazie a esempi di altri che facevano esattamente quella cosa fatta in quel modo ad esempio in un caso automate lo vedete in maniera molto visuale lo costruite come se stesse disegnando un diagramma di flusso a differenza di zapier se dovete avere a che fare con un cliente che è un po sturlo come si dice a reggio quindi un po di travertino a quel punto diventa molto semplice riuscire a spiegarglielo con una cosa in cui di fronte alle sue titubanze nella scelta di strumenti per per la sua azienda ad adottare si diverte a farlo se comincia a giocarci anche lui spesso questo criterio è quello che ha portato alcuni clienti a scegliere mailchimp l'immagine di mailchimp ha aiutato un sacco a convincere clienti perché lo vedevano molto più giovanile molto fresco eccetera e quando gli dimostravi che era uno strumento assolutamente professionale con niente da invidiare agli altri si convincevano che allora poteva andar bene anche per loro perché poter dare il 5 a freddy quando la mail parte soddisfa l'ego giusto un'azione di marketing anche quella quindi il rimettersi a scomporre il flusso di lavoro da dover fare ha permesso anche un'altra cosa ogni singolo passaggio a quel punto lo potete spezzare in tanti piccoli cicli di lavoro il pensiero computazionale che si insegna ai bimbi facendo i laboratori di programmazione quando gli insegnate a astrarre un problema risolverlo e vedere se ha funzionato il modo in cui l'ha risolto oppure ricominciare a vedere se il problema l'ha inquadrato bene trovare una soluzione per risolverlo e poi dopo riguardare se ha funzionato fino a quando funziona se ogni singolo passaggio l'avete spezzato in tante piccole cose semplici diventa molto più semplice riuscire ad applicarlo concretamente una volta che l'avete applicato concretamente a tanti piccoli passaggi quell'esperienza la potete facilmente più facilmente ripetere con altri clienti anche lo stesso principio quello quando vi trovate per chi è genitore insegnare la matematica ai figli se ci vanno poco d'accordo in cui la cosa che funziona di più se vostra figlia vostro figlio hanno qualche paura della matematica e insegnarli che alla fine sono quattro operazioni in croce se impari quelle con quelle cose semplici ci riesci a costruire tutto e ora il rendere tutto questo molto semplice vi permetterà di scoprire altre cose basta così taglio via tutta la fine già stato qua sopra troppo ho già dato troppo stamattina